carissimi carolina e matteo siete arrivati a questo momento preparando nei minimi dettagli la vostra celebrazione e lo si vede credo proprio che non sia solo per una questione estetica di apparenza di immagine piuttosto è segno di cura e auguro che il vostro matrimonio sia ovviamente amore e sia una continua scoperta che vi ricordiate di essere uno prima che essere due e essere uno vuol dire continuare a meravigliarsi del mondo meraviglioso che l'altro è carolina ricevi questo anello segno del mio amore e della mia fedeltà matteo ricevi questo anello segno del mio amore e della mia fedeltà